Vediamo insieme delle caratteristiche che fanno innamorare perdutamente un uomo, che teoricamente portano un uomo a essere molto più interessato a te. Come base ci sono donne che fanno innamorare più di altre e chiaramente questo dipende anche dal fatto che siano più belle e più ricche, ma non solo da quello. Dipende più o meno dal tipo di emozioni e di sensazioni che portano l'altra persona a sentire, a percepire e che quindi riescono poi a trasmettere. Ok? Trasmettono delle emozioni. Questa è la prima cosa che ti devi ricordare. Se sei un po' brutta e racchia, mi dispiace, questo è un problema, sicuramente avrai dei problemi a far innamorare un uomo fin dall'inizio. Sarà un po' più difficile, ma non darti per perduta, cara mia, perché ci sono delle chance e ci sono possibilità che tu possa ottenere un buon risultato. Ok? Ora, si tratta, diciamo, di persone che teoricamente si rapportano con te e che chiaramente cadono nella trappola dell'amore perché seguono una sorta di attrazione che si indirizza verso quello che sentono, verso quello che percepiscono. Ci sono delle ricerche che sono state fatte, mi ricordo alcune cose che mi sono appuntato, e praticamente l'ideale per gli uomini sarebbe questo, una donna intelligente, istruita con una posizione sociale e lavorativa di spicco. Guarda un po' quello che io seleziono, tendo a selezionare. Le ragazze con degli obiettivi abbastanza ridotti e meno passioni sembrerebbero essere comunque persone meno intriganti, diciamo, all'occhio degli uomini, all'occhio tipico degli uomini. Questo che significa? Significa che se tu ti rapporti con gli uomini e chiaramente non hai ben chiaro quello che è un po' il tuo scopo nella vita, quelle che un po' sono le tue passioni, i tuoi hobbies, eccetera, sicuramente avrai dei gravi problemi nel riuscire a ottenere dei risultati, sicuramente avrai dei problemi nel riuscire a raggiungere un buon grado di attrazione. Ma non è tutto questo, perché ci sono anche altre caratteristiche che puoi implementare e utilizzare quando ti rapporti con un uomo. Ho una mini lista, una mini checklist qui, che probabilmente può tornarti utile per riuscire a aumentare la chance che gli uomini cadano a due piedi e che eventualmente si innamorino davvero di te, quindi che arrivino a una sorta di realizzazione epocale del loro amore per te. La prima cosa è avere il senso dell'umorismo. Molte persone, molte donne in realtà, pensano che avere il senso dell'umorismo significa fare lo stand-up comedy o significa in qualche modo farlo ridere tantissimo sguagliatamente. Ecco, questa è una bagianata estrema. La realtà dei fatti è che questo non serve per riuscire a sedurre un uomo, serve però l'umorismo. L'umorismo si intende un approccio, quindi uno stile ovviamente, che si avvicina a una leggera provocazione quasi a modi sfottò. Questo è diverso rispetto alla situazione dove il tizio con il quale ti stai frequentando ride sguagliatamente a delle due battute. Molto diverso, gravemente e gravosamente diverso. Il punto è che le donne che hanno un buon umorismo e fanno, diciamo, sanno ridere di se stesse, sono già a buon punto, ok, come base. Però non si devono prendere troppo sul serio, chiaramente non devono essere iperpermalose. Mi ricordo ancora una volta uscì con questa ragazza super super permalosa e praticamente questa donna, io feci una battuta e si offese per circa 5 minuti della serata. Ha veramente devastato e rotto completamente il mood della serata. Sembrava andare bene, sembrava la serata avesse in qualche modo preso piede. In realtà poi ho scoperto che era veramente noioso il fatto che fosse così permalosa e poi l'ho gustata, quindi non ho avuto più a che fare con questa persona. Odio le persone permalose perché io non lo sono e odio le persone che fanno finta di non essere permalose e che poi ti dicono che sei permalosa. Molto fastidiosa. Quindi diciamo che il senso e l'umorismo deve essere accompagnato al teasing, alla provocazione, del tipo Provochi il tizio con il quale ti stai rapportando, quindi il ragazzo lo provochi su delle sue qualità di eccesso o comunque dove cede. Non so, molto bravo sul lavoro, potresti dire che non credi che sia così bravo, che pensi che lui non valga niente, poi ti fai una risata, no dai sto scherzando. Insomma approcci di questo stampo che tendono un po' a fargli capire che non hai paura di provocare e screditarlo in qualche modo. Un altro tratto importante per essere una donna seducente e quindi per riuscire a farlo innamorare perdutamente è il tratto che riguarda la tua indipendenza. Una buona indipendenza rappresenta una capacità decisionale e che rappresenta anche un certo tipo di approccio direzionale alla vita, quindi qualcosa di interessante, qualcosa di intrigante e di seducente. Una donna che sa stare da sola e quindi non dipende dagli altri partner sembrerebbe essere molto più attraente agli occhi di un uomo, sembrerebbe essere molto più interessante e intrigante agli occhi di un uomo. Per sedurre davvero un uomo quindi c'è bisogno che ci sia un'indipendenza da parte tua. Insomma devi prima settare e quindi sistemare un attimo tutte quelle che sono le tue situazioni personali per poi riuscire a uscire fuori nel mondo del dating e darti da fare, quindi negli approcci all'altro sesso e quindi con gli uomini. Dovresti anche, tra virgolette, essere in grado quindi di riuscire a darti da fare da sola per alcune cose, ma ricorda sempre che la tua indipendenza non significa che non accetti l'aiuto di un uomo, comunque non accetti l'aiuto di una persona che eventualmente ti vuole corteggiare e magari sta lì in procinto ed è anche attratta da te. Ricorda di sempre che il corteggiamento delle attenzioni le vuoi ricevere, non le vuoi negare e questo non significa essere indipendente o non indipendente. Altro tratto importante è l'intelligenza. Se non sei intelligente almeno cerca di essere acculturata. C'è una grossa differenza. Personalmente adoro sia le persone acculturate che intelligenti. Le persone acculturate magari sono leggermente intelligenti o molto acculturate perché sono coscienti del fatto che possono avere un deficit riguardo un po' la loro capacità mentale e di conseguenza si acculturano e spingono la ricerca di qualcosa di migliore per loro. Altrimenti sia intelligente. Just be smart. Cerca di essere intelligente. Le persone più intelligenti inevitabilmente sono più attraenti. Perché sai spaziare, quindi cerca di saper spaziare agli argomenti e cerca di saper ascoltare per un buon 80%. Se vuoi far finta almeno di essere intelligente spazia su più argomenti chiedendo all'altra persona le diverse cose di cui ti ha parlato. Quindi ramifica la conversazione, come spiegherò anche futuro nel mio videocorso e se stai vedendo questo video dopo un bel po' trovi tutto in descrizione. E poi eventualmente utilizza chiaramente quegli argomenti per spaziare e approfondire e farlo parlare di più. La naturalezza è la base. Io personalmente non sono naturale in alcuni approcci. Cioè veramente sembro veramente impacciato. E questo fa veramente schifo. Essere super impacciato, non sapere come muoverti, non sapere cosa fare. Mi è successo diverse volte in my life. Vuoi perché semplicemente ero un po' stranito? Vuoi perché semplicemente ero arrugginito? Non ero al top della mia forma. Ero un po' così preso male. Ok? Ecco, allora, se riesci a essere il più naturale possibile nelle movenze quindi se hai meno goffa possibile è un buon deal. Ok? È un buon affare. Ed è un buon modo per rapportarti a un uomo. Diciamo che non devi essere estremamente curata o estremamente, diciamo, impostata. Ecco, questa è l'idea. Puoi anche lasciarti andare in alcuni tratti leggeri, ogni tot che lo vedi. fargli notare dei tuoi tratti specifici dove sei leggermente goffa ma di base segui una naturalezza. Una seconda, un ultimo, un penultimo. Tratto importante e che a me piace moltissimo sono le donne che eventualmente sono attente a quello che vogliono ottenere sono più o meno organizzate. Una volta sono uscito con questa dizia e mi dice io non so nemmeno che cosa faccio domani sera o comunque non so nemmeno che cosa faccio fra 30 minuti o tipo stasera a cena, no? Ok, perfetto. No. Una persona che non ti fa sentire protetto in qualche modo è una persona che poi tendi a scartare. Una donna che non è organizzata è una donna molto fastidiosa. Puoi usare la tecnica di essere disorganizzata cioè del tipo non so quando ci sarò più o meno ti farò sapere non ne ho idea. Random una volta ogni 4-5 per creare un po' di mistero e scarsità ma non sempre quindi fai attenzione a questo. E poi c'è la dolcezza. Un tratto importantissimo che mi piace moltissimo sono le persone che sanno dosare la dolcezza. Chi fa innamorare sa dosare la dolcezza a fasi alterne ma la sa dosare e la usa. Si tratta di essere sorridente non aggressiva e delicata nel tatto quando azzeri la prossemica e tocchi l'uomo con il quale ti stai rapportando. Non significa essere smielata o debole significa essere attenta e delicata nel tocco che è diverso con la dolcezza. Quindi se eventualmente vuoi fare quindi innamorare un ragazzo prova ad applicare questi piccoli semplici principi o comunque integri all'interno della tua conoscenza per riuscire ad adottarli quando sei all'interno degli appuntamenti e durante il corteggiamento. Grazie per essere qua Federico Picchianti iscriviti al canale sarebbe davvero importante per me un like e guardare nella descrizione per tutti i miei servizi and I'll see you in the next. Grazie. Grazie.